Agevolare i medici nella loro attività e offrire ai cittadini servizi online, evitando loro lunghe file d'attesa. Con questo intento l'ASP di Caltanissetta ha ampliato il sito istituzionale offrendo nuovi servizi. Da oggi, infatti, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno accedere a servizi online nell'apposita area loro dedicata sul sito www.asp.cl.it. Un nuovo sistema grazie al quale i medici, oltre a tenere aggiornati i propri orari di ambulatorio e rendere note altre informazioni all'utenza, potranno gestire la campagna vaccinale di screening, oltre che prenotare prestazioni ambulatoriali. In fase avanzata anche l'iter per permettere lo scambio di referti quando disponibili agli utenti. Al momento sono già disponibili online i servizi per i cittadini di richiesta, cambio medico e rilascio di esenzione per reddito e a breve sarà possibile effettuare online la prenotazione e pagare i ticket. Oggi presentiamo le nuove possibilità che stiamo attivando per poter rendere un servizio più adeguato sia a chi opera nel settore della sanità, in questo caso specifico per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, però questo sito sarà utilizzato anche dai cittadini. Che cosa stiamo presentando oggi? La prima cosa che stiamo presentando è la possibilità per i medici di medicina generale di accedere al sito e avere il loro cedolino, poter eventualmente pulire le liste dei pazienti che hanno in carico e segnalare eventuali errori e quindi allineare tutta la loro attività per quanto riguarda la connessione con l'azienda. Attraverso il sito in un prossimo futuro, abbiamo già uno scadenzario, noi attiveremo la possibilità da parte dei cittadini di poter anche prenotare quelle che sono le prestazioni che dovranno effettuare, quindi gestire la loro prestazione, pagare i ticket e utilizzare tutti i servizi dell'azienda. Questo tutto attraverso uno smartphone, un telefonino che adesso oggi è di uso comune per tutti. Quindi questo tipo di attività che avevamo già annunciato, da oggi si parte e a mano a mano che noi andremo ad attivare i vari servizi e i vari settori, noi ne daremo comunicazione. C'è anche un altro servizio importante che oggi metteremo in campo, è quello di poter comunicare direttamente con tutti i medici di medicina generale o attraverso un SMS o attraverso una mail per comunicare quelli che sono i passaggi oppure particolari novità.